Buongiorno amici, bentrovati sul canale. Parliamo di auto in Inghilterra e lo faccio parlandovi di Road Tax. Cos'è la tassa di guida per guidare in Inghilterra, come funziona, quanto costa e poi chiedo a voi gentilmente di dirmi le differenze con l'Italia. Vi dirò quelle che conosco io, però in termini di costo non le so. Io non so quanto costi il bollo per una Golf, piuttosto che per una Maserati 4 litri, 4.7 litri, V8, piuttosto che quanto costi il bollo per una BMW classe C del 2014. Queste cose non le so, però vi darò i costi dell'Inghilterra, quanto costano i loro bolli e vi chiederò a voi di dirmi quanto sarebbe costato in Italia. spoiler, lo so che hanno messo i superbolli, eccetera. Proprio per quello vorrei fare questo video per farvi vedere la differenza tra due paesi. Uno che ha deciso di punire chi desidera di guidare macchine belle o di cilindrata medio alta e un altro invece che ha lasciato un libero mercato e ha lasciato un grande livello di libertà agli automobilisti. Nonostante anche l'Inghilterra stia seguendo il discorso green, il discorso auto elettriche, zone traffico limitato, però resta comunque un paese dove c'è una grande passione per i motori, per le automobili, dove c'è un mercato delle auto estremamente attivo perché, come vi ho detto in altri video, acquistare un'auto è una cosa che si fa nel giro di 20 minuti. Io vedo un annuncio su internet, vado a vedere la macchina, gli faccio un test drive, la guardo e se mi piace faccio il bonifico o do i contanti al venditore, che può essere una persona come me, un privato, e in due secondi su internet facciamo il passaggio di proprietà in maniera gratuita. Quindi capite che è un paese dove il passaggio di proprietà è gratuito, dove le tasse di circolazione, la road tax, il bollo, sono piuttosto basse rispetto all'Italia. Un paese dove il costo delle auto in generale è più basso perché ci sono meno tasse e poi perché probabilmente le auto a guida dall'altra parte costano meno, ma questi dettagli non ve li posso approfondire perché non li conosco. Sa di fatto che le auto costano meno in Inghilterra. E l'usato è molto attraente, comprare degli usati di auto belle qua è molto interessante, molto attraente. E come vi ho spiato anche nell'altro video, vi raccontavo che la mia seconda auto era una Jaguar XF e non è che mi è costata chissà che. Quindi, detto questo, andiamo a parlare del bollo, come funziona il bollo, la road tax in Inghilterra. In Inghilterra, se volete guidare una macchina su suolo pubblico, dovete pagare la road tax. Diversamente, se volete tenerla in garage, su suolo privato, usarla solo su pista o in, non lo so, nella campagna del vostro amico, c'è una pista, andate off-road, fate fuoristrada, non dovete tassarla. Però nel momento in cui entrate su suolo pubblico, e quindi la parcheggiate in strada, la lasciate su suolo pubblico, l'auto deve essere tassata. Road tax. Il che, di nuovo, è una differenza con l'Italia. In Italia, se non erro, il solo possedere un'auto vi obbliga a pagarne il bollo, no? Che è una cosa assurda, perché è un'auto mare distrutta, che non funziona, che non usata, è chiusa in garage e voi dovete pagare. Perché sappiamo che siete dei polli, o quantomeno il governo vi tratta come polli da spennare. Ora andiamo a guardare le cose che vi interessano. Quanto costa la road tax in Inghilterra? Allora, la road tax, prima di tutto, su cosa si basa. Se non sbaglio, in Italia si basa sui cavalli, se non erro. Ma qua, di nuovo, commentate, spiegate, eccetera, me lo lascio fare a voi, se avete voglia di dirlo. In Inghilterra si basa sulle emissioni di CO2, sappiamo questa sostanza malefica che sta condizionando le nostre vite. Quindi, in base alle emissioni della vostra auto, pagate tasse più o meno alte, in base anche all'anno di immatricolazione. Allora, è abbastanza semplice, però ci sono due tabelle, adesso ve le faccio vedere. C'è una tabella per le auto registrate tra il 2001 e il 2017. Quindi queste auto, in questa fascia di età, diciamo, sono tassate in questo modo. E vi faccio vedere la tabella. Un attimo, i nostri tecnici alla regia ci permetteranno di vedere. Eccola lì. Abbiamo delle diverse bande. Vedete, allora, la banda A è, se avete emissioni, fino a 100 grammi al chilometro, pagate zero. Se è B, fino a 110 pagate 20 sterline l'anno, eh. E poi si sale, no? Se andate sopra le 295 grammi al chilometro, la lettera M, siete in banda M e pagate all'anno 695 sterline. Ok? Diversamente, se la vostra auto è stata registrata dopo il 2017, aprile 2017, cambiano queste bande. E c'è una first rear, c'è una tassa al primo anno di queste auto, nuove, tra le auto dal 2017 in poi. E poi c'è una standard rate e poi c'è da aggiungere, se l'auto costava più di 40 mila, un'altra tassa. Quindi hanno alzato la cosa. Come vedete, se è fino a 100 pagate 165 sterline le emissioni, no? Se sono fino a 100 paghereste 165 l'anno, il primo anno, e poi 180. Ricordiamoci che questo è per le auto dal 2017 in poi, che dovrebbero essere più green, quindi dovrebbero consumare meno. Interessante notare come le auto vecchie, invece, fino a 100 pagavano zero, perché essendo più vecchi, loro dicono, ok, non le penalizziamo. Mentre se la macchina è nuova e continua a inquinare, a dire loro, valga 165-180. In più, se l'auto costa più di, se avete parla, più di 40 mila sterline nuova, allora vi appioppano, se non sbaglio, 300... 300... un 300 pound in più circa, giù di lì. Comunque, ho mancato di inquadrarvi la parte più interessante della tabella delle auto dal 2017 in poi, quindi le auto che hanno massimo 5 anni di età, oggi. Ed ecco, se va oltre i 255 grammi al chilometro di CO2, pagherebbero 2600 sterline l'anno, il primo anno, e poi tornano 180. Quindi ti penalizzano il primo anno perché hai comprato una macchina grande cilindrata, ma poi, se non sbaglio, si torna alla standard rate, che è 180, a cui si aggiungono 390, ecco, se la macchina costa più di 40 mila. Quindi facciamo un esempio. Comprate una macchina che ha un'articolazione supera del 2017, che ha una grande cilindrata, o comunque che fa emissioni alte, il primo anno pagate una botta, 2000 pound, 2006, ma poi pagate 180 più 390, che a casa mia fa 470, 570 circa, di road tax. Se non ho capito male, funziona proprio così per le auto più moderne. Ovviamente potete immaginare che un'auto elettrica ha 0 CO2, ma hanno intenzione di introdurre tassa road tax anche per le auto elettriche a breve, quindi chi si è comprato un'auto elettrica verrà penalizzato tra poco, perché dicono, eh capito, ma se abbiamo tutti l'auto elettrica, poi chi la paga a road tax? Quindi poi la faranno pagare anche a loro. Quindi queste sono le prime differenze. Ora dite, vabbè Jacopo, la tabella del CO2 non ci capisco una mazza, facci degli esempi, non è un problema, adesso vi faccio gli esempi. Vi piglio, eccola qui, partiamo dall'auto più vecchia, vi faccio vedere un BMW, guardate, questo è un BMW serie 3.3, 3 litri, Euro 5, 4 porte, ok, del 2013, no? Con 158.000 miglia altrettutto, vi dico anche il prezzo, 8.000 pound, dubito che in Italia lo potreste comprare con 8.000 pound, un BMW con 200.000 chilometri del 2013, ma ad ogni modo questo lo lascio commentare a voi. 8.000 pound lo potete comprare in Inghilterra. Quello che vi interessa sapere, ma una volta mi compro questo BMW, che mi sembra quasi nuovo da come è tenuto, molto bello, ok? Quanto pago di road tax? Semplice, vado su questo sito, metto la targa, vedete, SB63, la metto su questo sito e mi dice che il mio BMW è un emissioni 129, banda D, benissimo, se è banda D, vado a guardare la banda D, guardate, la banda D costa, la banda D costa 150, quindi questo BMW mi costa 150 l'anno, o meglio 15 sterline al mese circa, ok, bene, ora vi faccio vedere Toyota, un Toyota Land Cruiser del 2019 con un 2.8 litri diesel, quanto paga? Ok, metto la targa, scendo e scopro che paga, prima di tutto, paga 3,55 in più, perché, boh, perché me lo dice qua, e poi, probabilmente perché da nuovo costa più di 40.000, e poi è banda X, banda X, banda K, scusate, banda K, quindi vado su banda K, sotto la tabella, la banda K era, penso che sia tra i 95, penso sia questa, non lo so, quanto ho tolto le lettere, onestamente mi sono un attimo perso, fatemi guardare di nuovo, banda K, questo è del 2018, fa 207 grammi, ok, andiamo a guardare, se fa 207 grammi, banda K sono 1.500 il primo anno di Rotax e 180 dopo più 3.95 di Surcharge, quindi quello mi costa il Land Cruiser del 2019, mi costa circa, mi costa tanto il primo anno e poi mi costa sui 3.50 più 190, sui 500 e qualcosa. Ora, ultimo, vi faccio vedere un Maserati del 2014, 14, bello rosso, con un 4.7 litri, vedete, 4.7 litri V8 diesel sport coupé, Euro 5, 460 presumo cavalli, lo vendono a 37.000 sterline se vi interessa, e questo è un Maserati del 2014, andiamo a guardarne la targa, il Maserati è qui, ho messo la targa, e scopriamo che è una banda M, perché fa 354 emissioni, allora, banda M di una macchina vecchia, banda M, ci costa 695, avete visto? 695 si ha più di 295 mg, quindi un Maserati 4.7 litri V8 con il motore di una Ferrari del 2014, che pagate 39.000 sterline, lo tassate a 700 sterline l'anno. In Italia, ditemi quanto avreste tassato quel Maserati, scommetto 3.000 euro, una cifra impossibile. E con questo chiudo il video e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e guidate solo auto a benzina e diesel. Ciao!